Ciao a tutti qui è Edo96TV e sto per darvi alcune informazioni importanti Prima di tutto lunedì uscirà un nuovo videogameplay della serie Pokémon Quarzo Ho intenzione prima di finire tutta questa serie per poi incominciarne una nuova Anzi se potete scrivermi nei commenti qualche acrome più carina ve ne sarei grato Inoltre la settimana prossima uscirà la prima puntata della nuova rubrica Paradossi In ogni puntata cercherò di spiegarvi un paradosso Anche se appunto essendo un paradosso non sarà una cosa molto semplice Inoltre sto pensando di portare un video sull'origine delle bandiere nel mondo Non so se vi interessa fatemelo sapere nei commenti Per me sarebbe un'idea molto carina sapere il significato di tutte le bandiere nel mondo Ovviamente farei una rubrica apposita con varie puntate perché non ci entrerebbero mai tutte in una puntata Detto questo le news finiscono qui Se avete altre rubriche da propormi ditemelo nei commenti Ti ho un messaggio privato e io sarò lieto di accogliere la vostra richiesta E per finire buon weekend a tutti e mangiate tante lasagne